La valorizzazione del gambero bianco, del gambero rosso e del gambero viola del Mediterraneo è una delle attività che il distretto della pesca ha intrapreso da alcuni anni con alcuni progetti importanti di studio, di analisi, di verifica, intanto sulle quantità, sulle qualità e soprattutto sulle prospettive di valorizzazione. Quella di oggi è la prima riunione, il primo incontro con gli operatori per verificare quali sono le possibilità, le potenzialità di arrivare ad una definizione di un marchio, di un marchio collettivo, di una distinzione sui mercati per fare in modo che ci sia sempre di più trasparenza, chiarezza e soprattutto che ci sia la possibilità per i consumatori di avere e di apprezzare sempre di più un prodotto di eccellenza del Mediterraneo che è il gambero bianco, il gambero rosso e fare in modo che questo gambero possa essere ben distinto da tutti gli altri. Questa è una prima esercitazione, è un primo esercizio che noi stiamo facendo con un gruppo degli associati nella filiera della pesca demersale. Poi c'è un altro filone importante della Sicilia che riguarderà quello del pesce affumicato. Non tutti sanno che in Sicilia si produce il 70% del prodotto affumicato venduto nel mercato italiano. Le sei aziende, che peraltro sono tutte associate al nostro distretto, sono andate fino ad oggi in ordine sparso. Anche con loro faremo un altro tavolo, analogo a questo, finalizzato alla valorizzazione, alla distinzione, se possibile ad una marchiatura dell'affumicato di Sicilia utilizzando magari i legni di Nebro, delle Madonie, il sale di Trapani, per mettere in evidenza la Sicilia. La Sicilia ha enormi potenzialità, così come anche nel settore delle acciughe. In occasione di Blue Sealand questi tre progetti, acciughe, gambero e prodotti affumicati, verranno presentati al grande pubblico attraverso dei tavoli tematici. Questo è il primo che inizia da Mazzara del Vallo, che è la capitale del gambero, si capisce, e tenteremo insieme agli operatori di studiare insieme, secondo le loro volontà e secondo soprattutto il rispetto delle regole del mercato. È fondamentale l'informazione, aggiungerei la formazione, la formazione degli addetti, sia a bordo che in tutto il percorso della filiera, nella trasformazione, del packaging. Per questa ragione abbiamo già fatto in questi giorni un incontro proprio finalizzato a questo scopo con l'assessore della formazione della regione siciliana e i suoi tecnici. È del tutto evidente che c'è un programma, un sistema, una visione complessiva che serve a fare sì che il prodotto siciliano possa essere sempre più valorizzato e apprezzato nei mercati. Oggi noi assistiamo anche da un mercato di riferimento, quale può essere quello del mercato etico di Milano, ha un grosso problema in termini di frodi commerciali. Se facciamo una rapida carellata su tutti i colori quali somministrano prodotto proveniente da Mazzara del Vallo, quindi gambero rosso proveniente da Mazzara del Vallo, ci rendiamo conto come i quantitativi dovrebbero essere tali che una produzione non potrebbe assolutamente reggerne la raccolta. Quindi è necessario oggi dotarsi di disciplinari che riescano a identificare il luogo di provenienza ed è proprio della scorsa settimana una iniziativa che sta portando avanti il Parco Tecnologico Padano e ha individuato il mercato ittico come partner per questa progettualità che si chiama il DNA controllato. È chiaro che questa è un'iniziativa che dovrà necessariamente coinvolgere la produzione in primis, però il mercato ittico che si pone come un luogo dove naturalmente arriva una grossissima quantità e varietà di prodotti consente di certificarne appunto quelle che sono le caratteristiche diciamo in termini proprio nutritivi, caratteristiche biologiche e quindi riuscire a creare dei protocolli che consentiranno di verificare se un prodotto effettivamente può freggiarsi di essere venduto come gambero rosso di Mazzara oppure siamo di fronte appunto ad una frode commerciale. Assistiamo a quello che è un po' il male di tante imprese italiane, cioè questa diffidenza nel fare squadra. Oggi dobbiamo capire che la singola impresa non può più ritenersi in grado di affrontare un mercato, un mercato che è ricco di insidie con una concorrenza spietata e soltanto il fare sinergia può consentire di valorizzare un prodotto così apprezzato sia in Italia che all'estero peraltro. Quindi bisogna superare lo scoglio dell'individualismo. È un processo culturale che sicuramente richiede tempo, però è l'unica strada che ritengo sia percorribile per poter anche prepararsi alle sfide che è il futuro presente.